Allora siamo qui con un altro ospite in questo pomeriggio da Sinova, Frici e Lazio naturalmente Sinova 2015, terzo salone dell'innovazione e siamo con una ditta di Alghero che per i più distratti è in provincia di Sassare, si chiama Sein Biometrics e abbiamo uno dei soci che è Matteo Sanna. Buon pomeriggio Matteo. Buon pomeriggio a voi. Di che cosa si occupa Sein Biometrics innanzitutto? Allora Sein Biometrics è un'azienda che si occupa prima di tutto di computer vision e biometria, quindi svolge progetti in questi settori. Nell'ultimi anni, negli ultimi due anni stiamo spingendo un brand che è Winepix, che si esplicita in un'app gratuita per Android e iOS, quindi dispositivi Apple, iPhone e iPad. Che cos'è Winepix? Winepix è una piattaforma che ti permette di conoscere il vino, anche quello che non ti aspetti o quello che nessuno ti ha mai presentato di fronte agli occhi e la sua peculiarità è quella di poter... ti dà questa informazione scattando una foto all'etichetta frontale della bottiglia. Ecco, questa è la sua peculiarità. Poi ti permette di... scuscati la foto e ti dice tutto. Ti dice... ti dà una scheda completa. La vita di quel vino. La vita... poi la morte la decidi tu. Sì, perché subito. Esatto. Gli accostamenti al cibo che te li consiglia, qual è il modo di servirlo, ti permette di inserire una nota di degustazione, di esprimere una valutazione, di andare a vedere gli altri prodotti dell'azienda stessa. Senti, come vanno le cose in questo senso? Beh, allora, siamo nati nel 2013 con quest'app. Abbiamo tutto il 2013 e il 2014 abbiamo fatto crescere la piattaforma, l'abbiamo perfezionata a livello di user experience ed è da circa un anno che vendiamo servizi sulla piattaforma. Le aziende rispondono, le aziende con cui collaboriamo sono i produttori di vino e chi distribuisce, quindi il ristorante, la vineria, l'enoteca. Beh, allora, quello che è importante fare per noi è far crescere il più possibile la community. Quindi le persone che scaricano l'app e che la usano devono crescere ogni giorno. Questo sta succedendo, il trend è positivo. Contiamo di arrivare a circa 200 partner nell'arco del prossimo anno e per noi sarebbe un risultato molto, molto soddisfacente. Si può scaricare da tutti gli store, naturalmente, in modo gratuito, immagino. Sì, Apple e Android. Al momento non copriamo ancora Windows Phone, ma ci stiamo attrezzando. Eh, questa cosa di Windows è un po' un problema per tutti però, non credo che sia una vostra pecca alla fine, perché ne ho sentite di queste storie già, mi sembra. Ok, allora Winepix è quell'app che potrete scaricare da vostro store di riferimento e poi comunque i device più usati usano iOS, Apple e Android, quindi siete a cavallo, non c'è di dubbio. Questa azienda, la Same Biometrics, si occupa di, mi raccontavi prima, anche di altre cose, no? Esatto, Computer Vision e Biometria. Computer Vision. Che cosa è? Che cos'è la, cos'è il Computer Vision? Signora Shura Maria che ci sta ascoltando da casa, adesso le insegniamo che cos'è il Computer Vision. Matteo, dimmi. Che cos'è la Computer Vision? Allora, i nostri occhi guardano una cosa e capiscono subito al volo che cos'è, attraverso il nostro cervello, educatissimo, lo educiamo da fin da bambini a capire che cosa sono gli oggetti che gli si presentano di fronte. Le macchine, quindi i computer, si trovano di fronte a un'immagine e si chiedono che cos'è. Bene, noi cerchiamo di spiegare alla macchina che cosa ha di fronte, quindi la macchina va educata, come, insomma, attraverso quindi una sorta di, chiamiamola intelligenza artificiale, gli possiamo spiegare che cosa ha di fronte e gli possiamo insegnare a riconoscere particolari oggetti. Noi abbiamo scelto l'etichetta di vino in questo caso, ma attraverso i nostri software possiamo riconoscere, adesso voglio essere un po' presuntuoso, pressoché qualsiasi cosa. Beh, vabbè, perché è la realtà virtuale, ma la realtà, insomma, non c'è poco da fare. Vabbè, l'importante è che questi Computer Vision poi non si diano alla Maria Salvador che sta per arrivare con JX. Allora, grazie a Matteo Sanna di Same Biometrics. Grazie a voi. Ricordate WinePix, l'applicazione che riconosce e vi dà proprio la scheda di ogni vino, tutto, anche con quali cibi abbinarlo, scaricabile gratuitamente a TV Store. Sì, Matteo, dimmi? Niente, poi noi saremo presenti all'evento che c'è la settimana prossima al Poetto, quindi al Poetto Wine Festival, saremo technical partner, vi invitiamo a venirci a trovare sia a Sinova che la settimana prossima al Poetto. Guarda Matteo, sono già lì.